Il tema dei territori oggi per noi come FM è diventato un tema importante perché abbiamo imparato sulla nostra pelle anche nel recente passato che si può essere fortemente connessi anche in situazioni di grande difficoltà e di grande lontananza e questo grazie appunto alla tecnologia digitale che consente appunto di connettere persone da più luoghi, da più parti del territorio allora come FM l'impegno è quello di ribadire questa possibilità riaffermare questa possibilità di dare alla tecnologia digitale anche la funzione di connessione tra i territori dando ai singoli la possibilità di vivere le esperienze oggi immaginare un mondo in cui le funzioni della propria vita lavorativa e non solo ma anche dell'apprendimento, della salute, della cura oltre a quelle tipiche del territorio che è il turismo possono essere vissute in modalità ibrida, connessa, multifunzione in territori a loro volta distribuiti e non più concentrati in un unico luogo quindi la possibilità di poter lavorare connessi o distribuiti in maniera diffusa su un territorio ma allo stesso tempo poter portare a sé, a vantaggio proprio, la vocazione, la ricchezza di quel territorio è uno degli aspetti sui quali ci stiamo concentrando in questo ultimo periodo della nostra vita aziendale la nostra vita aziendale la nostra vita aziendale la nostra vita aziendale la nostra vita aziendale